Dopo 5 anni di politica attiva, spesi come consigliere comunale d'opposizione, Davide Del Vecchio dell'Udc non partecipa alla competizione elettorale di maggio. Nessuna delle liste che avevano mostrato interesse per accoglierlo come candidato indipendente poi hanno concretizzato le promesse fatte. In primis fu la stessa candidata sindaco Lucia Tarsi che, a suo dire, in una riunione di coalizione avrebbe assicurato una soluzione per la sua candidatura, ritenendo lui e il suo bacino di voti una risorsa importante per il centrodestra. Ma alla resa dei conti a 20 giorni dalla chiusura delle liste il posto per Del Vecchio non è saltato fuori. Né Forza Italia dopo ed in ultima istanza la Lega Fano, dopo aver mostrato interesse per il suo nome, hanno poi concretizzato la cosa disarcionando dalla corsa elettorale del Vecchio. Come consigliere comunale penso di aver lavorato tra i più attivi. Siccome io non sono né a caccia di posti né a caccia di poltroni come qualcuno vorrebbe far intendere, ho deciso tranquillamente di ritirare la mia disponibilità a partecipare a queste elezioni amministrative perché non sono disponibile a questi atteggiamenti e a questi modi di fare politiche che non mi appartengono. Prende atto con grande amarezza di questa situazione definita dallo stesso interessato spiacevole e anche poco onesta verso chi ha fatto passi indietro anche in passato rinunciando alla sua candidatura a sindaco pure di poter ricompattare le forze di centrodestra della città. Un inganno bello e buono dei suoi alleati che Del Vecchio ha 20 giorni dalla chiusura delle liste e quindi non può accettare e non gli rimane altro che ritirarsi dalla competizione elettorale. Quali che siano le ragioni di questa sequenza di due di picche alla sua persona nemmeno lui se lo sa spiegare o forse è ben conscio di quello che si è consumato nelle segrete stanze della coalizione e se lo tiene per sé ma a conti fatti i giochi di forza all'interno della coalizione spianano il campo a diverse interpretazioni. Chi mastica più amaro di tutti però è Pierino Cecchi che assieme a Mei e Falcioni si è consumato a forza di caffè e riunioni per trovare la quadra e riunire le forze del centrodestra in un grande dispendio di energie e di tempo ed ora si trova con un pugno di mosche dopo che proprio i suoi alleati gli hanno girato le spalle. Sosterò convintamente ancora il centrodestra ma in questa fase preferisco fare un passo indietro così come ho fatto un passo indietro quando ho ritirato la mia candidatura a sindaco per lasciare spazio all'unione del centrodestra. Farò anche in questo caso un sacrificio. mi tiro indietro senza nessun problema. Continuerò comunque a fare politica a tutti i miei elettori e le persone che mi hanno sostenuto che voglio ringraziare. Dico che continuerò comunque a fare politica attiva come cittadino con senso civico occupandomi del sociale e di tanti altri problemi che questa città ha.